Back in ETV Benvenuti a tutti qui Balconi ETV Trento, io sono Fabrizio, trasmettiamo dalla splendida terrazza del rifugio Bindesi e oggi siamo in compagnia dei Prolog of a New Generation che ci faranno ascoltare un brano che si intitola Introspective. Buon ascolto. 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 And you now, the champion of UW, you all become an expression, as far as the freedom of sense. You are only, assassins and victims. You are only, assassins and victims. Very good, wait a minute. Do you hold on, Mirko? Well, we present the teacher, our guitarist, Chris. Thank you. Allora, allora, allora. Innanzitutto cominciamo col presentare la band. Questo è Mirko, il nostro cantante, colui che si fa tatuaggi a caso, un giorno sì, un giorno no. Questo qua è Dionis, la nostra bella bionda, bassista. Questo qui, il batterista, piantato sul sental. Bellissimo. Anche definito tognazza. È una specie di animale. Allora, questo qui invece, bei Rizzolini, è il mio socio chitarrista, eh? Nico, alla chitarra. Allora, vi dico subito che noi siamo giunti laddove la gente viene per ricercare la quiete. Cioè, in montagna. Come ben vedete, prima c'era il sole, abbiamo portato un po' di lampi, tuoni, fulmini, controcorrente, via, ciao. E siamo venuti per interromperla questa quiete. Speriamo di esserci riusciti, meno male. Buon proseguimento. A te la parola Fabrizio. Wow, maestro. Maestro è sempre... Esatto, facciamo un applauso al maestro. La sua verve è invidiabile. Niente, a questo punto, Mirko, parliamo con te a proposito dei prolog of a New Generation come progetto. Beh, questa era Introspective, è una canzone del nostro nuovo album, che dovrebbe uscire a mesi, speriamo, prima possibile. Fa parte di Mindtrip e stiamo cercando un'etichetta, quindi se ci fosse qualcuno interessato noi siamo qua, ci trovate su Facebook, su Youtube. L'album vediamo di farlo uscire su Spotify e su iTunes, tutte le principali rivendite di musica. E niente, se c'è qualcuno che vuole collaborare in qualcosa, video, progetti o che, noi siamo qua. Vi trovano ovviamente su Facebook. Siamo su Facebook. Bene, ragazzi, io faccio la mia parte, faccio l'ultima chiusura, poi ovviamente chiuderà il maestro. Comunque, vi ringraziamo, vi invitiamo a seguirci sempre, Balconi TV Trento e Balconi TV International, seguite i nostri social. E che direi, io dico, stay with us, ma l'ultima parola va al maestro. Grazie. Ringraziamo il Prolog of a New Generation. Grazie a voi. Grazie della parola Fabri, un presentatore coi fiocchi, si suol dire. Allora, praticamente io direi che non ci sono parole da aggiungere, assolutamente. a parte un bel balletto da parte mia, una dedica perché vi voglio tanto bene. Allora, forza dai che cominci alle danze! Oh ok? Ahahahahahah! Back in ETV